Due ori! Due ori! In Italia! In Italia! Lo sforzo alla fine unisce sempre, anche se stavamo litigando. Se non interessa poi vabbè, però insomma ecco. Colleghi, colleghi per favore, che colleghi? Colleghi, colleghi, colleghi per favore, un po' di silenzio se no non continuiamo. Colleghi. 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 Ovviamente si capiva che l'applauso non era per le mie parole, ma una bellissima notizia, per cui è giusto che l'Assemblea la festeggi. Grazie. Grazie.